WAHE KUJ! Benvenuti da vostro Andrani con Amatoone in questo nuovo episodio di Yokai Watch 3 Siamo ancora qui alla residenza Lannocciola per un'altra sfida Dobbiamo incontrare uno yokai particolare, ovvero lo yokai Dottor Ticancello E' uno yokai che comunque sia dovevo prendere ormai da un po' di tempo E oggi prenderemo lui e l'ultimo yokai degli incaidibili velo tempo Ci sarebbe anche un altro yokai che è ribello, ma ribello e divenire squadra non ne vuole sapere nulla Quindi purtroppo mi toccherà aspettare, non so finché non lo prendo non posso farci nulla Ma tu che ci fai qui? Non posso neanche parlargli Strano Forse si è buggato lì Ho letto che comunque sia con l'aggiornamento che hanno messo hanno risolto molti bug, ma forse non tutti Né beh Ad ogni modo, Dottor Ticancello Oh, sei tu! Dottor Ticancello, che ci fai qui? Temevo che gli yokai della vita non si stessero comportando bene Perciò ho deciso di venire a controllare Allora piace molto fare scherzi Capisco Non sembri molto impegnato di fare ascoltare le mie storie per un po'? Certamente Ora che ci penso, la prima volta che sono venuto in questa villa Ci ha attaccati? Non è stato molto carino Eh, vi ho attaccati? Mi dispiace molto Eri di pattuglia? No, qualcuno mi aveva chiesto di svolgere delle indagini nella villa Delle indagini? Non che lascia che ti spieghi cosa sta succedendo Però è una storia un po' lunga, fammi sapere quando ti voglio ascoltarla L'eroe folle, il dottor Ticancello Eh, no, non serve attivare la navigazione Sentiamo la sua storia, però Bella, però, la host Ecco Voglio spiegarti perché mi trovavo nella villa Il titolo del negozio di orologi aveva percepito una strana aura nella villa Così mi ha chiesto di investigare e di tenere ad occhio la ragazza che vive lì Oh, perciò si trattava di questo Vi ho attaccati perché pensavo fosse colpa vostra Poi ho capito di aver sbagliato Mi siete sembrati interessanti Io ho deciso di osservarvi più da vicino Ah, perciò ci stavi osservando? Devo dire che non me ne sono proprio accorto Beh, se fosse così facile notarmi che razza di Araiokai sarei Mi sono divertito a osservarvi Divertito? Avresti potuto aiutarci? Non c'è bisogno di agitarsi Se fosse stato in pericolo sarei intervenuto Comunque se ne è su un rumore davvero interessante E ora ne sono ancora più sicuro Vorrei saperne di più di te Cioè? È deciso, combatti di nuovo con me Ci saranno più informazioni su di te E se dovesse dimostrarmi una forza che va al di là della mia comprensione Vorrei continuare la mia ricerca seguendo il tuo operato Ehi Andrea, significa che Araiokai diventerebbe tuo amico Diventerei amico di Dottor Ticancello Ok, facciamolo Credo Mi piace il tuo atteggiamento ragazzino Fammi sapere quando sei pronto Sono pronto ora Dai Quindi d'ora in poi mi aiuterai con la mia ricerca, vero? Inizierei battaglia? Oh yeah Mi piacerebbe sapere come è sviluppato tutta questa forza Sono molto curioso Cominciamo da ricerca Spero non mi dare i falsi positivi Tranquillo Io do solo roba originale Vediamo un po' Tu gli oggetti li prendi, vero? Ebbè certo Lui, oh, l'unico e ribello Né con la pistola yokai per fare il cuoricino Né con gli oggetti Non so che fare ragazzi È lunga prenderlo È molto lunga Oh, ha fatto un danno ingente Nonostante fosse un incanto Gira, 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 gira Perfetto Wow, 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 wow A baguette Va, mangia questa baguette Non male Ci vorrebbe effettivamente un Qualcosa per fargli recuperare I PS Andiamo un po' Vabbè, ora non serve tanto Sto dietro Perché si è mosso? Rifresci da zero? No, lascialo fa Lascialo fa Perfetto Se c'era giurisore di piena Giurisore di piena Giurisore di piena è già andato Come tocca sempre aspettare un po' Perché nessuno fa nulla O quelli si stanca Le vanno a riposare Fanno altro Combattete? Che hai Che scansa fatiche Dottor T. Cancello ti viene incontro Il tuo potere è davvero intrigante Ti vai di assistermi nei miei esperimenti? Eccolo qua Vediamo un po' i soprannomi che c'hai E-Razor E-Razor Dottor Cance Tremend Teschio Bah Annulliamo E un altro sigillo si apre La medalla Dottor T. Cancello ti viene Dottor T. Cancello Bene 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 Davvero molto interessante Vorrei continuare I miei ricerchi su di te Che tipo di ricerche? Fino a questo momento Solo il mio capo Aveva suscitato il mio interesse Il tuo capo è Incantella Vero? Ero molto curioso Quando ho sentito Di alcuni yokai Che agivano come eroi Mi chiedevo Se fossero incantati Dagli eroi umani Ma Incantella Lei è una vera eroina È così forte E a differenza di altri Non è per niente noiosa Non sei un grande fan Di Nuvola Azzurra Vero? Mi interesso a chi vale sul serio Ho grandi aspettative su di te Ok farò del mio meglio Non è il tipo di eroe Che ci si aspetta Ma sembra comunque Un buon amico Chiamami Se non sono impegnato Con la ricerca O investi di eroi Ti aiuterò Credimi Non ti chiamerò mai E anche se lo facessi Tu non saresti impegnato Lo so bene Credimi Buono Un'altra avventura È stata completata Cioè Ci mancherebbe L'altro yokai ora E la la Attacchi arcani Ma Sai quanti no Di Di strumenti Per potenziare l'attacco Ah non posso neanche Usare Teletrasporto Di traspec Qui Ok andiamo a prendere L'ultimo yokai Vero tempo Che si trova Sopra lo spettro market A dire vero Volevo farla già da tempo La missione Me la sono preparata Un sacco di volte Ma non l'ho mai fatta Perché volevo fare Sempre altro Poi quando iniziavo Dico vabbè Andiamo a fare altro Perché tanto Posso farla quando voglia E infatti Ho sempre fatto altro Invece di fare Vero tempo Giuro che ce l'ho da un sacco Di tempo programmata Ah però Allora non è notte fonda Quindi il clown Ancora non c'è In giro Forse Ma per quello Farò un altro episodio Perché c'è appunto Lo yokai Koros zombie C'è Koros zombie Da affrontare anche Non so quanto Possa essere più forte Di Di un Koros Normale Comunque sia Ma forse è forte È forte come Depredos Non è neanche Tutto quanto Sto gran che è Alla fine Chissà Andiamo qua Sembra quasi Che la H No Abbia quasi Un magnete Che ci attira E ci permette appunto Di Di fare in modo Di atterrare Più facilmente O posso anche salire qui No Perché no qui Dai Sei piccoletto Nathan eh C'è altro Qui sopra Qualche oggetto strano No Condizionatori Altri condizionatori E Velo tempo Che ci aspetta Ci buttiamo Vediamo un po' qua Ehi È passata un'atterizzata L'ultima volta Che ci siamo visti Come va? Ciao Velo tempo Che ci fai qui? Controllo che non ci siano I yokai sospetti in giro Sono di pattuglia In cantella Mi ha detto che pattuglierà La città È una buona routine quotidiana Buon per te Sei davvero Un eroe yokai affidabile? Ma no Questo è il minimo Comunque Visto che siete qui Potremmo passare un po' di tempo insieme Certo Certo Ehm Perché sei entrato a far parte Del eroe yokai È vero tempo? Ah Vuoi ascoltare la mia storia? Mi farebbe piacere raccontartela Bene Ti dirò com'è andata Però devo capire da dove iniziare Aspettami un momento Vieni a parlarne con me un'altra volta Ma perché? Che significa questa storia? No Non attiviamo la navigazione che non serve Sta qui tanto Eccoci qua Dunque Vuoi sapere perché sono diventato un eroe yokai Giusto? È perché Perché Mi piace correre? Adoro la velocità Tutto il giorno Tutti i giorni Veloce Finché non ho sopperto il muro del suono Non pensavo altro che alla velocità Così in cantella mi ha fatto una proposta Che proposta? Mi ha chiesto se volessi diventare l'eroe Che salva il mondo a velocità supersonica Oh cielo Avrebbe convinto anche me con una richiesta simile Ero così emozionato Da allora ho sfruttato la mia abilità Per andare ovunque a velocità supersonica A combattere crimine e sconfiggere cattivi Come un vero eroe yokai Wow incredibile Ma Quando ho iniziato la mia carriera di eroe Non ero molto forte Qualche volta Agente Spioniglia ha dovuto aiutarmi Era divertente fare coppie con lei Però Non basta essere veloce Devo anche diventare forte Beh ovvio E la velocità non basta quando si combatte Già Ti auguro di migliorare La sottocentrata c'è lo yokai che gira Grazie amico Abbiamo già combattuto insieme vero? Ah si E quartiere generale Iopoli A New Yokai City se non ricordo male E da allora sto E da allora Che sto riflettendo su una cosa Sembri piuttosto forte Perciò stavo pensando Combatteresti contro di me per aiutarmi ad allenarmi? E dopo che combattiamo un po' di volte Potremmo diventare amici Cosa? Vuoi essere un elemento migliore Per il team di incantelle Agente Spioniglia Prima di prepararti Prima devi prepararti Giusto? Fai con calma E ti aspetterò Sono pronto Oh Andre Mi uterai ad allenarmi? Certo che ti aiuto Vai Facciamolo Mostrami tutta la tua forza Ok Ok Ti mostrerò anche un frutto yokai Tu non lo conosci Ma è molto buono Si chiama Magna testa mela Ti è Magna Ti piace la mela eh Attacchi rapidi cosa? Oh stai calmino Buono Bello Praticamente è come su Wibble Wobble Buono le sfara media Se si spostasse Se si spostasse Farebbe Perfetto Cascato Mannaggia te Manca a farlo apposta eh Ah Ha solo uno Di Di spazio Di Di Recupero Beh certo E' molto veloce Usiamo appunto Ah cavolo però la pistola yokai Potrebbe anche darmi un Il cuore Non per forza la Yes Alto poi Amico mio Sei nei guai eh Grande E' andato Bon Presi tutti i rai yokai Tranne ribello Che non vuole Sapere Di entrare in squadra E' quasi una settimana Che ci sto provando Ah 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 Non riesco a credere Che tu mi hai raggiunto Fenomenale Fare amicizia Ma certo Vediamo un po' Lampo Mister speed HG Monocolo Monocolo Non c'entra Ma al limite Flash Al limite Poi c'è anche la sua controparte La vicino Ok un altro yokai E' il ribello L'altro Chi è Gli altri tre Ce ne mancano almeno Wow sei davvero forte Sentri poter Immaginare intensamente Con te Perché non ti unisci Al nostro team Gli incaidibili Potremmo volerci più spesso E combattere insieme Per difendere la pace Sono certo che Incantella sarebbe d'accordo Oh cielo E' davvero un'offerta Allettante Andrea Che intendi fare? Certo Non penso di poter accettare Non ho l'indole dell'eroe Capisco E' un peccato Un vero peccato Ma possiamo ancora essere amici Grandi amici ok? Certo Beh di certo E' appena nato Una bellissima amicizia Continuiamo a migliorare insieme Ok Andrea? Va bene Cavoli però Se potessi entrare A fare parte del team Sarebbe bello Ci entra ad un orem Nel team Diciamo no? Se chiede incantella Dai certo Senza che fai apprendista Cioè direttamente Ho salvato il mondo In fondo Non è che Non è proprio Facile Come cosa Allora Allora Questo video Termina qui Io come sempre Vi ringrazio per averlo seguito A breve La Facciamo la quest Di Dead Cool Che ho trovato Tutti quanti gli yokai Che mi servono O meglio Me ne mancano alcuni Ma ho gli elementi Che mi servono Alcuni devo Fonderli Altri yokai Devo prenderli Ma so dove prenderli Quindi praticamente E' fatta In poche parole Bene Io come sempre Vi ricordo Ovviamente Anche che in descrizione C'è il link Per instagram E se non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre A prossimo video Bye 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 bye